Lo scorso fine settimana Giarre ha celebrato un momento importante, la riapertura del Cineteatro Rex. La struttura di proprietà comunale ma affidata in gestione all'Associazione Culturale Archidrama, a seguito di un bando pubblico, è stata oggetto di interventi di restauro, ristrutturazione, adeguamento, modernamento e innovazione tecnologica, realizzati in parte con un contributo dell'assessorato regionale dei beni culturali intercettato da Archidrama nell'ambito dell'avviso pubblico Teatri di Sicilia e per un'altra parte con risorse dello stesso gestore. Nei giorni scorsi il parere favorevole alla piena agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza alla prima convocazione ha consentito la riapertura dello storico teatro. A tagliare il nastro sono stati il presidente di Archidrama, Alfio Zappalà, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, l'assessore allo spettacolo e al patrimonio Giuseppe Cavallaro e l'assessore alla cultura Tania Spitaleri, insieme all'assessore alle politiche scolastiche Antonella Santonoceto, all'ex sindaco Angelo Danna e all'ex assessore alla cultura e spettacolo Patrizia Ligonti, che nel 2019 avviò con l'amministrazione Danna le procedure per l'affidamento del teatro. Oggi va in scena il primo spettacolo ufficiale qui al Cineteatro Rex di Giarre, dopo un lungo intervento di restauro, ristrutturazione, innovazione tecnologica, valorizzazione della struttura e adesso parte la valorizzazione sul piano delle attività, un progetto che ha un imprinting ovviamente prima di tutto culturale, quindi la Gorà, se vogliamo, della città ritorna a essere ancora una volta lo storico cinema comunale di Giarre, oggi Cineteatro Rex e noi siamo lieti come associazione culturale che opera nel territorio di aver dato il nostro contributo affinché ciò avvenisse. In realtà questo non è un evento di inaugurazione, bensì è appunto l'apertura dell'attività con l'inizio delle rappresentazioni che erano già in programmazione. L'evento vero e proprio in accordo e coordinandoci con l'amministrazione comunale appunto sarà poi a settembre con l'inizio della nuova stagione teatrale e quella sarà un'occasione in cui racconteremo alla città gli interventi che sono stati realizzati, da dove parte il progetto fino ad arrivare appunto ad oggi a questa riapertura. Riapre dopo qualche anno perché ci sono stati dei problemi di staticità durante poi il Covid e ci si è fermato. Considerate che questo è un patrimonio culturale della nostra città. Pensate, forse c'è qualche carteggio che passo qua da Rex Angelo Musco. Me lo diceva il nipote che venne più volte qua proprio in questo teatro Rex. Per me è un momento importante di gioia perché stiamo riconsegnando un bene che appartiene a tutti i giarresi. Questa è un'apertura un po' in sordina mi permetto di dire perché già giustamente Zappalà deve riattivare un po' tutto perché è stato fermo per parecchi anni. Però prometto alla cittadinanza che a settembre ci sarà un'apertura con il coinvolgimento delle associazioni, della scuola, del cittadino, perché è un bene che si sta riconsegnando alla città, è un bene di tutti e deve essere utilizzato e conosciuto peraltro che si sta riaprendo un bene di questo genere nella nostra città. Grazie a tutti.